L'anno scorso, primo anno di amministrazione della giunta termine, botti di capodanno non furono effettuati. Ne scaturì una polemica infinita, soprattutto sui social, con l'assessora Agnese Sinagra che commentò dicendo che era stata una scelta fatta per fare un dono alla natura, a cani, gatti e uccelli. Un anno dopo, sempre l'amministrazione termine e decide di effettuare i fuochi d'artificio per salutare il nuovo anno, stanziando appositamente 12 mila euro. La politica evidentemente cambia idea. Le associazioni ambientaliste no, visto che arriva oggi dalla lega antivivisezione che opera nel territorio, la decisione di lanciare una raccolta firme online sulla pagina Facebook Love Shaka per conoscere il parere dei cittadini in merito ai 15 minuti di spettacolo pirotecnico che il comune di Shaka ha previsto per la notte del 31 dicembre. 12 mila euro sperperati letteralmente in fumo e che potevano essere meglio utilizzati per altre esigenze, ad opinione dell'associazione animalista che ovviamente evidenzia come l'utilizzo dei botti nuoce gravemente alla salute di tutti gli animali domestici e selvatici, oltre ad arrecare fastidio ad alcune categorie di persone più fragili o con disabilità. 15 minuti di botti equivalgono a 15 minuti di terrore per cani e gatti che vengono sottoposti ad uno stress elevato che spesso li conduce alla morte, sostiene la lega antivivisezione e tutto ciò per quello che ad altri appare come un divertimento. A Esercienzi l'associazione chiede dunque di firmare la petizione nella speranza che la richiesta venga presa in considerazione negli uffici comunali. Insomma, la lab di Sciacca condanna i fuochi d'artificio a Capodanno e ricorda come molti comuni italiani nei giorni precedenti al Capodanno emanino apposite ordinanze per dire no ai botti. In realtà questa sensibilità era stata manifestata dalla Giunta lo scorso anno. Quest'anno ha annunciato nel contesto degli eventi natalizi che ci saranno i botti il 31 dicembre, probabilmente per evitare le polemiche già registrate un anno fa.